salve a tutti dar papi siamo nel pezzetto di terra che diventerà rifugio dell'italia quattro zampe rifugio disco d'insolando e mi sono preso un attimo di pausa mentre gli altri stanno lavorando guarda come lavorano loro lavorano tanto e io ho detto vabbè penso un attimino a ughetto ma avete sentito parlare tanto di ughetto e si sulle nostre pagine perché ughetto cerca casa ughetto non lo vuole nessuno ughetto è l'ultimo rimasto c'aveva due orelline ma non ce l'ha più tutte queste cose qui sughetto no e adesso invece io me lo stacco qua un pochettino ughetto così intanto mi faccio anche un attimo di pausa perché qui ci sono tanti lavori da fare guardate abbiamo messo la recensione adesso stiamo creando uno spazio per poter custodire qualche perosetto ughetto oh tu fai finta che stai benissimo un braccio a me capito così non mi chiamano e io mi faccio le coccole con te che è più bello fare le coccole con te che lavora è certo però sicuramente questi prima o poi si raccorgono che stanno a fare un pochettino i marpioni eh vabbè comunque lui è ughetto e cercava una casa adesso invece una casa forse ce l'ha era giusto per dire a tutti che noi stiamo intanto qua ughetto ma tu sei bello ma com'è bello ma com'è morbido non potete capire guardate quanto è bello ughetto vabbè buona serata a tutti da ughetto e da arpapi grazie a tutti